Io nel calcio conosco un solo modo di togliere lo scetticismo dalla testa della gente, vincere è convincere, non penso ci siano altre strade, c'è solo una strada di andare in campo, fare un buono spettacolo, divertire e far risultare. Penso che l'obiettivo di divertirsi in campo non sia antitetico a quello di vincere, perché se una squadra si diverte solitamente diverte e se una squadra in campo si diverte diverte il pubblico solamente acquista anche quell'entusiasmo collettivo e molto spesso è benzina per andare a fare anche risultati. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti